amici di youtube bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato fabbiambrosi.it quest'oggi impareremo come utilizzare i livelli 3d in adobe after effect 3 minuti per imparare l'essenziale iniziamo subito iniziamo col creare due forme geometriche creiamo un rettangolo e creiamo subito dopo un cerchio bene nei livelli 2d io questi due oggetti posso muoverli o in orizzontale o in verticale posso ruotarli intorno al loro pivò ma non posso fare nient'altro se io trasformassi questi due livelli in livelli 3d cliccando nella colonnina del livello 3d sotto al simbolo del 3d per capirci ecco cosa accade posso ancora muovere questi due oggetti in orizzontale e in verticale ma posso in più muovere ad esempio il cerchio indietro o in avanti cosa cambia cambia che se io cambio la visualizzazione muovendomi dalla videocamera corrente per esempio la videocamera dall'alto noto che questi due oggetti non sono più uno a fianco all'altro ma per la precisione il cerchio è molto più indietro posso muoverlo ancora più in avanti posso muoverlo a destra a sinistra e se adesso tornassi nella visualizzazione tradizionale della camera frontale se io vado a muovere questo cerchio in orizzontale vedete che quando passa dietro al rettangolo sostanzialmente viene nascosto sono diventati due livelli 3d attenzione perché io posso anche ruotare a questo punto non più solo intorno al pivò ma posso ruotarli anche in avanti o indietro posso ruotarli chiaramente in orizzontale vedete che c'è il senso della spazialità così come posso ruotarli ancora intorno al loro pivò non solo i livelli 3d possono lavorare con le luci e lo vedremo nel prossimo mini tutorial un'ultima osservazione importante da fare è che se anche questi livelli sono livelli 3d gli oggetti sono ancora 2d sono un po come due fogli di carta ok quindi non hanno il senso della profondità gli oggetti semplicemente perché si trovano su un livello 3d per estruderli e per dare più profondità a questi oggetti esistono altre tecniche e altri effetti che si possono utilizzare ma che sono argomento di un tutorial un pochettino più avanzato grazie per aver seguito anche oggi questo mini tutorial firmato fabio ambrosi.it vi invito ad iscrivervi a questo canale youtube e ad accendere le notifiche ci vediamo sul sito internet www.fabioambrosi.it se avete voglia andate e cliccate un like sulla pagina fabio ambrosi facebook ciao alla prossima